Catiusha Cacciatore, riconfermata sindaco di Arsita, intanto un commento a caldo all'indomani della vittoria elettorale. Io che posso dire sono contentissima, sono contentissima del risultato che il mio gruppo ha raggiunto e posso solo essere infinitamente grata ai miei cittadini che davvero ci hanno dimostrato tutto l'affetto e l'avvicinanza possibile e immaginabile. Quindi quello che mi sento di dire, il mio commento a caldo è proprio questo, un grazie ai miei cittadini. Riconferma è anche quasi più difficile di una prima elezione o no? Sì, secondo me sì, perché poi quando si amministra non sempre si riesce a fare tutto quello che si vorrebbe fare e comunque a volte bisogna fare anche delle scelte che possono non essere magari comprese appieno. Quindi riproporsi dopo che si è stati comunque già esposti può essere un po' più complicato. Però io credo che poi le persone abbiano la capacità di comprendere e quindi di rendersi conto su quello che magari si è fatto e soprattutto magari sull'impegno che è stato messo nel fare le cose anche magari se non sempre poi si sono avuti i risultati. Le donne in politica non è un ambito tra i più facili per le donne. In provincia di Terramon di quattro sindache uscenti, quattro riconferme, tra cui Catiuscia Cacciatore, segno che qualcosa sta cambiando, c'è ancora tanto da fare. Allora, è segno che qualcosa sta cambiando, però è vero che c'è ancora tanto da fare. Io credo che il percorso che si è iniziato sotto appunto il cammino delle donne in politica è un percorso importante, però la strada è ancora lunga. È difficile ancora vedere magari che sono i grandi centri rappresentati da donne. Forse nei piccoli centri si è più coraggiosi, diciamo così. Le persone scommettono di più, si fidano di più e magari io mi auguro che questo possa essere un segno anche per poi invece le grandi realtà.